Il direttore di gara, il primo arbitro è Luca Saltalecchi di Torciano, buon lavoro. Il secondo arbitro è Gianfranco Pidrata di Bologna, buon lavoro. Il resto della clima arbitrale, il terzo arbitro è Marco Turturi Montegranaro, al video check c'è Michele Albergamo di Pesaro e il segnavonte è Adriano Rispoli di Fano. Buon lavoro a tutti e passiamo naturalmente ai settenti iniziali delle due squadre, essendo dagli offi della gioiella Prisma Taranto, in campo con il numero uno Tommaso Stefani, il numero due Oleg Antonov, il numero quattro Aimone Alletti, il numero cinque Marco Falaschi, il numero otto Eric Lecchi, il numero dieci Jacopo Larizza, il libero con il numero sei Marco Rizzo, il primo arbitro è Vincenzo Di Pinto, il vice allenatore Cristiano Camardese. I nostri ragazzi in campo con la voce per la cucina, Lube Cinitanova, con il numero nove Ivan, con il numero dieci Marta Ciavi, con il numero undici Alexander, con il numero quindici Luciano, con il numero dici e sette Simone, con il numero venti tre Madlon, il libero con il sette Fabio, l'allenatore Gian Lorenzo Chico, il vice allenatore Romano, i ragazzi in campo con il numero uno Tommaso,